dai 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 e non lo vedi c'è un'arma basta male niente dopo dai non lo scudino se lo vuoi eh no non lo scudino è che il giù non lo scudino non lo scudino è che il giù è che il giù ho un scudo ho scudo sono due no due scudini dai ah non me lo dai aspetta lì oh lì a destra è mia qua dove stai oh vabbè un pomaggio ah dai vabbè 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 Entrati in venditore sotto Oh Liza vai e non lo tengo a scudini sono consumati no lo tengo proprio ah uno ce l'ho io no lo tengo ma hai chiuso il meditore si ci sono tutti no no ok non lo tengo no mi concentrato pure questo io ho due sta arrivando la safe ma dove hai fatto il coso nel centro? si si la scuola la scuola di qua andiamo verso la granata credo che può succedere qualcuno io rimane con 3 kg lo va a destra l'ho sentito verso destra ma dietro è dimmi dove hai oh da dove? è dall'acca 236 tipo ma questo è folle che bastardo ma ma non puoi ornandomi ornandomi oh mi dai gli scudini si 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 oh lui apriti ti hai te li faccio cadere stanno venendo non è che sono sono anche altra gente muoviti sempre muoviti sempre muoviti sempre claus fu colpito nooo e sono a terra ma fammelo uscire con la carta ma fammelo uscire con la carta ma fammelo uscire con la carta nooo eh clama stavo per morire nooo è buonissimo nooo siamo noi siamo noi che ci siamo noi parlando colchic aham to' di to' di to' di noo 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 no 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 dietro terra terra sono altri dove? sì ovicè e no il che assai nasole l? no che Ma allora lì Un po' di pausa C'è un po' di scudo lì Sono qua Allora c'è due medici Sono qua dentro da me Sono qua dentro da me No sono pure medici Oh Guarda che abbiamo combinato lì Questa la faccio, c'è più brava del mondo Guarda lui dovevi decommorare Ma non tengo legno C'è un 400 Mamma mia, sai chi l'ho fatto? Lì Oddio, guarda qua che cacchio è successo Eh è lì Ma poi non c'era come costruire Stanno lì, vieni con me Davanti, davanti, invece dietro Vieni con me Oh è lì Oh è lì da trappo da lì Dove stai? Sali qua sopra eh Eccoli, davanti lì No Claudio, non ti far sentire Non mi riesco di aver mai visto Vieni con me Vieni con me Oh ho 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 uff oh lui stanno venendo, stanno venendo lui no lui hai perso vita ho perso, ho perso, sono caduto, clan wow, che giudice no lui, maldito mamma mia mamma mia, ci ho messo pochissimo di vita non ho toccato un buco sono morti durante una nave è probabile sì sono 22 non ho 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 i scudini oh non ho me di vita mamma no dove è lo biglietto dai oh sta lì uno dove dove è lì davanti 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 stai tanto dietro regla che cacchio sono fosi qua non capisco ma che basta è nooo stai avvicinando stai avvicinando dai uno tiene sta senza scudo cioè fai gli devi buttare il lancio granate la terra oh da dietro dietro ma no ti malsati da dietro ho messo una terra davanti sta salendo sta salendo sta qua sotto da me qua sta salendo qua sotto sta tutto questo sta dietro di te sta salendo non lo vedo qui lo sta curando sta curando mannami è un mito è un minuto aspetta facciamo un attimo cura no sai quello che devi fare porca va... non ce la faccio, mi spiace ok ho 13 di vita prendimi i medici, prendimi i medici qui ecco è per l'opera finia che dovevo andare ma non c'è la teglia, ma non c'è la teglia guardi un'altra volta contro i due d'oro ma non c'è ma che sta fai una cosa finita guardi mi sono andratto ando qua sotto ah sta bene non c'è la teglia non c'è la teglia oh non le credi, sono con me è preso non c'è la teglia non c'è la teglia non c'è la teglia guardi mi sono andata guardi mi sono andata non c'è la teglia non c'è la teglia bellissimo no ho visto è morto 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 ma è morto è morto Grazie a tutti.